Attivata una task force per gli interventi e la prevenzione sul fenomeno degli incendi estivi, vigili del fuoco forestale insieme per salvaguardare il territorio. Si sgretola a Ragusa la maggioranza consigliare del Movimento 5 Stelle dall'ultimo consiglio comunale, segnali di pericolo per il futuro amministrativo pentastellato con il bilancio che incombe. Non manca di riservare sorprese la politica vittoria. Scoppia il caso Nicastro, il consigliere eletto con Aiello che vuole passare con PD, ma il partito insorge e la polemica è servita. Commissariata la Camera di Commercio di Siracusa, la regione boccia la decisione del consiglio camerale a Retuseo di accorparsi solo con Ragusa lasciando fuori Catania. Ben trovati con l'informazione di Canale 74. Gli incendi, soprattutto nella stagione estiva, non sono una novità. Per fronteggiare l'alto rischio di roghi e per attuare misure preventive è stata sancita una task force tra i vigili del fuoco e il corpo forestale, per tutelare così al meglio il territorio ebleo. Con la stagione estiva appena iniziata e il caldo di giorni roventi, ritornano gli incendi che imponenti danneggiano diverse aree boschive procurando danni ambientali. Ecco che per prevenire disastri di grandi dimensioni e limitare i danni, si è palesata una task force tra i vigili del fuoco e il corpo forestale. Se squadre di addetti saranno attive fino al 15 ottobre per prevenire gli incendi o nel caso in cui si verificassero, riuscire a domare le fiamme e spegnerle. In questo si è impegnato l'ispettore Giuseppe Di Martino, che ha presentato le direttive e i punti cardine del piano regolatore inerente al territorio ragusano. Come riporta il Corriere di Ragusa, il piano prevede l'impegno di 321 unità della forestale, a cui si aggiungono 171 addetti allo spegnimento, 60 uomini impiegati nella guida di autobotti e altri 90 per la sala operativa e l'avvistamento. Per avere così 16 postazioni antincendio per turno, di partite sul territorio provinciale, il prefetto Maria Carmela Librizia ha disposto una collaborazione attiva tra i corpi competenti, proprio per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Si potrà disporre, nel caso di incendi copiose e significativi, di un mezzo aereo che potrà agevolare le azioni di intervento. Gli incendi purtroppo sono numerosi. Gli uomini del 115, solo in giugno, hanno già fatto 30 interventi. Occorre prestare attenzione, specialmente nelle ore più calde della giornata e in prossimità di aree ricche di serpaglie e rovi, facilmente iniziatori di roghi. Per il momento è sospesa la protesta di Mariano Ferro e Angelo Giacchi che interrompono lo sciopero della fame contro le aste giudiziarie davanti al Tribunale di Ragusa. Dopo l'incontro con il prefetto Maria Carmela Librizi, avvenuto ieri nel tardo pomeriggio, il leader dei Forconi e l'imprenditore Angelo Giacchi hanno deciso di sospendere la forte protesta, dato che già ieri Giacchi, che aveva iniziato lunedì lo sciopero della fame, aveva avvertito un malessere ed era stato necessario l'intervento dell'autoambulanza del 118 per un forte calo di glicemia. Il prefetto si è impegnato a ottenere un tavolo istituzionale a Roma per affrontare questa emergenza e fermare il massacro in corso. Sancisce Ferro. Il prefetto si è impegnato a farci sapere quale sarà la data dell'incontro con il ministro che i Forconi chiedono da tempo. Se questo non avverrà entro la data del 5 di luglio, i Forconi, Mariano Ferro e Angelo Giacchi, sono pronti a riprendere lo sciopero. Dopo un consiglio comunale conclusesi alle 4 del mattino, l'assessore Corallo a Ragusa ha dovuto rinviare l'emendamento di modifica dell'articolo 48 per lo stop al cemento in zone agricole e per la sospensione delle nuove concessioni petrolifere. Si sgretola la maggioranza ragusana pentastellata. Dopo un consiglio comunale finito alle 4 del mattino con una lunghissima sospensione di 4 ore, l'assessore Corallo ha dovuto ritirare l'emendamento che prevedeva la modifica dell'articolo 48, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale per sancire lo stop al cemento in zona agricola e per bloccare le nuove concessioni petrolifere in aree verdi. Il consigliere Giovanni Iacono ha insistito perché l'atto venisse ritirato, ma non è stato ascoltato dall'assessore Corallo, che in un primo tempo ha rifiutato. Quando però tutti gli emendamenti sono stati bocciati e in aula erano presenti solo 10 consiglieri, l'assessore si è visto costretto a ritirare l'emendamento. Opposizione insolitamente coesa, che ha fatto fronte comune di fronte ad una maggioranza evidentemente sconfitta e disunita. I 5 Stelle ora devono seriamente prendere atto di quanto accaduto e la strada per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello di previsione diventa sempre più ardua. Nasce in provincia di Raguse il comitato spontaneo uniti per il futuro dei consorsi di bonifica in Sicilia. Non solo per la difesa, la conservazione, la salvaguardia e la tutela del suolo, ma per la valorizzazione del territorio, lo sviluppo della produzione agricola e anche come supporto tecnico e organizzativo per integrare e migliorare il piano di riforma della bonifica in Sicilia con un processo democratico di consultazione dal basso. L'obiettivo sarà quello di promuovere assemblee e incontri con la politica, nei suoi vari livelli con i sindacati, con le organizzazioni datoriali, con le scuole e le università per parlare, far conoscere meglio la funzione fondamentale e sostituibile dei consorsi di bonifica per l'economia del comparto agricolo. Dall'incontro che si è svolto a Raguse il 6 maggio scorso attraverso la carta degli intenti è stato reiterato il rispetto della dignità del lavoratore ritenuto indispensabile per i servizi consortili. E scatta a Ragusa il cosiddetto controllo del rifiuto. L'ordinanza regionale prevede infatti che i comuni debbano aumentare di almeno 6 punti la raccolta differenziata. A Ragusa da luglio partirà la sperimentazione del porta a porta già collaudata in altri comuni. La differenziata scalpita e gli obiettivi da raggiungere sono ambiziosi per il territorio ebleo, ma non impossibili. Il settore energie ed ambiente ricorda che con ordinanza del presidente della regione siciliana del 7 giugno 2016 è stata imposta ai comuni di attuare tutte le azioni possibili per aumentare la raccolta differenziata di 6 punti percentuali in 6 mesi. Pertanto dal 1 luglio prossimo inizierà la sperimentazione di controllo del rifiuto porta a porta nel centro storico di Ragusa Superiore e Dibla da parte della ditta Busso. Verrà a posto un apposito adesivo direttamente ogni conferimento differenziato scorretto inteso relativamente ai rifiuti esposti nei giorni in cui non è prevista la raccolta, in particolare il secco non differenziabile oppure per la presenza di umido organico altre frazioni differenziabili all'interno del secco non differenziato. Gli uffici comunali competenti ricordano altresì che la raccolta differenziata è un obbligo di legge e pertanto nessuno ne è dispensato. Secondo quanto ha dichiarato l'assessore all'energia e all'ambiente Antonio Zanotte, maggiori costi del sistema di gestione ai rifiuti sono attribuibili al conferimento in discarica di materiale indifferenziato. Ad operarsi quindi per la salvaguardia dell'ambiente, per il contenimento dei costi, per la raccolta dei rifiuti, deve avere impegnato ogni cittadino che è chiamato a differenziarli rispettando le regole per la raccolta degli stessi, senza dimenticare che il rifiuto differenziato diventa una risorsa economica. E' quanto ha voluto sottolineare l'assessore che ha anche auspicato che la sperimentazione attivata mediante tale sistema possa contribuire a diffondere una cultura della valorizzazione del rifiuto da considerare come risorse e non come scarto. Continua velocemente il percorso che porterà il Comune di Comiso fuori dal dissesto finanziario. Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale l'intera maggioranza presente in Aula ha approvato infatti il bilancio di previsione 2016. Si tratta, spiegano in una nota congiunta, i gruppi di maggioranza di un importante risultato raggiunto per diversi motivi. Nonostante l'opposizione si fosse affrettata ad annunciare l'arrivo dei commissari regionali, l'amministrazione ha portato in Consiglio il bilancio evitando il commissariamento a differenza degli altri comuni della provincia di Ragusa esclusi Vittoria e per altri motivi Ispica, Pozzallo e Scicli e di oltre il 50% dei comuni siciliani. E a Vittoria fa discutere il caso Nicastro secondo cui il consigliere Giuseppe Nicastro appunto, eletto con la lista Spiga e sostenitore di Aiello adesso sceglie di cambiare ed entrare nel PD. Discordanti i pareri sulla vicenda. A pochi giorni dall'elezione di Giovanni Moscato e sindaco di Vittoria dopo il successo al ballottaggio con Francesco Aiello iniziano ad emergere i primi casi politici ed incongruenze. Focus dei disaccordi sono le scelte del consigliere comunale Giuseppe Nicastro che eletto con la lista Spiga sostenitore di Aiello e da esso designato come assessore in caso di successo elettorale vuole ora entrare nel Partito Democratico. A questo si oppongono il segretario cittadino Francesco Cannizzo il quale ha affermato che è intollerabile scegliere come membro del PD chi faceva parte di una lista in contrapposizione allo stesso gruppo dirigente del gruppo democratico. Cannizzo ha definito questo un cambio di casacca come avviene per i calciatori ma bisogna rispettare le regole c'è uno statuto del Partito Democratico che regola l'ingresso nello stesso e non ammette per due anni che ha fatto campagna elettorale contro esso. Inoltre ci sono regole morali ed etiche oltre che responsabilità pubbliche. I dirigenti vittoriesi vedono dunque Nicastro come un corpo estraneo sul fronte opposto c'è chi prospetta la nascita di un secondo circolo con un nutrito gruppo guidato da Eugenio Cassarino che dopo la sconfitta si aspettava un'ammissione di colpa e non certo l'istituzione di patenti di idoneità per entrare ufficialmente nel PD. Così si recinte il partito ecco spiegato l'assottigliamento dello stesso dell'8%. Questi hanno dichiarato che serve autocritica al partito e non alibi. Si chiede un partito che aggreghi e non divida plurale e incisivo come indicano le direttive di Renzi. La vicenda vede anche contrapposti i deputati regionali Giuseppe Di Giacomo secondo cui il partito deve essere aperto ma non fare opere di raccolta e Nello Di Pasquale che sponsorizza la posizione di Giuseppe Nicastro. Dal canto suo il segretario provinciale dei Democratici Giovanni Denaro ha affermato che la costituzione dei circoli è libera e alla direzione spetta la decisione finale. Potrebbe essere un modo per tenere le porte aperte ad Aiello? Non si sa. L'amministrazione appena insediata nel frattempo sta tentando di risolvere le criticità del Comune Iparino dalla raccolta dei rifiuti al servizio autobus al decoro del litorale fino alla rete fognaria di depurazione in vista dell'insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Comunale previsto per il prossimo 6 luglio e che vedrà il Presidente del Consiglio Comunale uscente Salvatore Di Falco assumere la carica di capogruppo del Partito Democratico e dirimere da subito una questione a dir poco spinosa. Il Sindaco di Vittoria Giovanni Moscato preso atto delle diverse segnalazioni pervenute agli uffici da parte dei cittadini invita un consumo razionale dell'acqua e evitare gli sprechi di risorse idriche in questi pochi giorni successivi al mio insediamento spiega il Sindaco ho avuto modo di constatare una situazione disastrosa e parecchio difficile del settore in poche ore abbiamo fatto fronte a una vera e propria emergenza sono state centinaia le segnalazioni ricevute con diverse zone totalmente senza acqua e abbiamo provveduto a tamponare inviando l'autobotte comunale e mettendo in funzione altri due mezzi rimasti inspiegabilmente fermi per anni abbiamo ereditato una situazione particolarmente difficile ha concluso il Sindaco di Vittoria e stiamo lavorando intensamente per riportare la normalità Ennesimo sbarco a Pozzallo in 375 all'hot spot del Comune Marinaro fermati altri 3 scafisti in un gommone 118 migranti tutti dello stesso paese che avevano raggiunto con i libici un accordo per poter partire tutti insieme Ancora 4 gommoni salpati dalla Libia tutti insieme ed ancora 3 gli scafisti fermati le indagini sono tuttora in corso per identificare gli altri responsabili il centro di prima accoglienza di Pozzallo era stato appena svuotato e adesso sono arrivati altri 375 migranti 290 uomini, 44 donne di cui 40 i minori non accompagnati le indagini condotte dalla squadra mobile con la collaborazione dei carabinieri di Modiche della sezione operativa navale della Guardia di Finanza hanno permesso di identificare altri 3 scafisti due nigeriani di 42, 32 anni e un 19enne del Gambia i due nigeriani hanno condotto un gommone composto da 118 cittadini tutti del loro paese e dalle indagini è emerso che avevano raggiunto un accordo con i libici per partire tutti insieme poi un altro scafista ha condotto l'altro gommone questa volta da sole con a bordo 123 migranti le testimonianze anche in questo caso sono state fondamentali hanno permesso a tutti di poter lavorare al meglio e di identificare gli autori del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina la polizia scientifica dopo l'identificazione mediante il rilevamento delle impronte digitali ha segnalato alla squadra mobile di Ragusa che uno dei migranti aveva già tentato l'ingresso in Italia pochi mesi fa e per questo era stato espulso a seguito delle indagini il cittadino nigeriano è stato tratto in arresto sono tuttora in corso le indagini per individuare gli scafisti degli altri due gommoni salpati insieme dalla Libia per raggiungere l'Italia anche in questo caso i poliziotti hanno dovuto verbalizzare tristi storie di violenze soprusi subiti in Libia e durante le fasi di imbarco dalle coste africane intanto è stato recuperato il relitto del peschereccio in Abissatos il 18 aprile 2015 nel naufragio in cui morirono circa 700 migranti considerato la più grande tragedia nel Mediterraneo fra i viaggi della speranza a largo della costa della Libia il barcone è stato agganciato due giorni fa il relitto sarà adesso trasportato nella rada di Augusta e sarà collocato all'interno di un'attenso struttura refrigerata dove inizieranno le operazioni di recupero delle salme e ancora una notizia di cronaca gli uomini dell'ufficio volanti della questura di Ragusa hanno soccorso una giovane donna e la sua bambina di soli 4 anni traendo in arresto il convivente che l'aveva colpita più volte con schiaffi, pugni e morsi l'uomo originario della provincia di Siracusa di 34 anni ha continuato a colpire la sua convivente nonostante la bambina di soli 4 anni in lacrime si fosse interposta a difesa della madre provocando alla piccola lesioni personale ad un braccio il tutto è successo in piena notte quando al 113 è giunta la segnalazione di un'aggressione ai danni di una giovane donna all'interno di un'abitazione del centro storico immediato l'arrivo sul posto delle volanti della polizia di Stato che hanno trovato la giovane donna disperata con i segni al volto delle botte subite e sua figlia di soli 4 anni in lacrime accanto a lei la donna e la piccola sono state soccorse dal personale del 118 che ha riscontrato contusioni al volto agli arti un trauma cranico ai danni della donna e un trauma al braccio sinistro per la bambina l'uomo su disposizione del PM di turno il dottor Gaetano Scollo è stato tradotto presso il carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria nella Basilica di San Pietro a Roma Monsignor Corrado Lorefici arcivescovo metropolita di Palermo ha ricevuto questa mattina il palio in occasione della celebrazione eucaristica nella solinità dei Santi Pietro e Paolo presieduta da Papa Francesco una cerimonia suggestiva a cui hanno partecipato molti fedeli anche da Modica e Palermo e che Canale 74 ha seguito in diretta attraverso Telepace in arrivo alcune importanti novità per gli allevatori siciliani a renderle note l'onorevole Nello Di Pasquale sentiamo quali sono l'onorevole Nello Di Pasquale parlamentare regionale del Partito Democratico in una nota ufficiale ha reso noto che da oggi le aziende che si occupano di allevamenti nella regione siciliana sono autorizzate alla movimentazione verso la regione Veneto di vitelli di età inferiore ai 90 giorni e figli di madri non vaccinate per la Blue Tang il nulla osta dal Veneto è arrivato pochi giorni fa sulla scorta di una richiesta che il Servizio Sanità Veterinaria del Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute aveva avanzato raccogliendo le stanze di alcune aziende e su segnalazione dell'Associazione Regionale degli Allevatori Siciliani la regione Veneto ha subordinato il proprio nulla osta al parere del Ministero della Salute che a sua volta prendendo atto dell'intenzione del Veneto di rilasciare l'autorizzazione ha indicato alcune semplici misure precauzionali e aggiuntive rispetto all'attuale situazione epidemiologica nazionale delle quali i Dipartimenti di Sanità Pubblica Veterinaria delle ASP siciliane sono già state informate secondo Di Pasquale l'autorizzazione rilasciata dal Veneto rappresenterà un'utile opportunità per gli allevatori siciliani e della provincia di Ragusa in particolare perché potranno finalmente avviare rapporti commerciali con le aziende del Nord per la vendita di certi capi di bestiame fino a ieri non consentita sono in arrivo anche altre novità per gli allevatori siciliani a darne notizie anche in questo caso l'onorevole Di Pasquale il quale comunica che presso l'Assemblea regionale siciliana è stato appena approvato il rifinanziamento dei fondi per il Consorzio di ricerca filiera lattiero casearia di Ragusa per 1.370.000 euro e i fondi per l'Associazione regionale degli allevatori siciliani per 2.526.000 euro se così fosse rappresenterebbe una bella boccata d'ossigeno Brutte notizie per i consumatori italiani dal prossimo primo luglio infatti le tariffe luce e gas subiranno sensibili aumenti rispettivamente del 4,3% e dell'1,9% si tratta di aumenti pesanti che incideranno in moto non indifferente sulle tasche delle famiglie considerato soprattutto il rincaro per l'elettricità che scatta proprio quando si registrano i picchi nella domanda di energia elettrica ossia i mesi estivi con intenso uso di condizionatori afferma Francesco Tanasi segretario nazionale della Codacons che chiede al governo di intervenire con urgenza e arriva il commissariamento per l'ente camerale di Siracusa il commissario Dario Tornabene dovrà occuparsi delle questioni di amministrazione ordinaria lui spetterà la revoca della delibera votata qualche settimana fa dal consiglio camerale a Retuseo che prevedeva il divorzio da Catania alla Camera di Commercio di Siracusa arriva il commissario straordinario sarà Dario Tornabene ad occuparsi delle attività di ordinaria amministrazione in attesa del completamento delle procedure di accorpamento con Catania e Ragusa il consiglio camerale siracusano lo ricordiamo qualche settimana fa aveva votato una delibera che sanciva la volontà di continuare la fusione solo con Ragusa lasciando il capoluogo etneo da solo non esiste alcun nesso ha dichiarato l'assessore all'attività produttiva Mariella Lobello in un'intervista alla Sicilia con la votazione del consiglio camerale il commissario però dovrà annullare l'atto deliberativo dobbiamo pensare alle criticità di queste strutture non solo alle guerre di potere concluso Lobello guerre di potere che si giocano soprattutto sulla questione aeroporti di Catania e Comiso e proprio per questo l'assessore Lobello invoca un intervento diretto della regione che faccia uscire dall'immobilismo anche il Movimento 5 Stelle all'Arsa ha attaccato la scelta di Siracusa che la deputata Angela Foti ha definito una delibera temeraria sottolineando come il tornare indietro a questo punto con la revoca dell'occorpamento si verrebbe a configurare come un enorme dannerariale determinato da due anni di procedimenti buttati nel cestino e intanto la paralisi degli enti camerali deve fare i conti con numeri impietosi con la gestione in perdita di 4,2 milioni di euro con Ragusa e Siracusa che assommano circa un milione di perdite una decisione scellerata un altro scippo alla sanità della zona sud del Siracusano una delle mete turistiche più importanti dell'intera Sicilia a dichiararlo è il sindaco di Pachino Roberto Bruno che dopo la comunicazione della riduzione oraria la guardia medica di Via Nuova a Marzamemi ha già incontrato il direttore generale dell'ASP 8 Salvatore Brugaletta manifestando profondo rammarico per il taglio del servizio il borgo marinaro ha sottolineato il sindaco e meta di migliaia di turisti e visitatori che si riversano soprattutto di notte perché centro della movida notturna siciliana appare dunque il logico che l'ASP anziché potenziare la guardia medica addirittura riduca il servizio da 24 a 12 ore soltanto nelle ore diurne oggi per la rassegna Comisando che ha visto degustazioni musicali in giro per la città di Comiso è previsto uno spettacolo all'insegna della musica siciliana con Alessandra Ristucce e Fabio Medilli i due artisti si esibiranno in Profumo di Rosa spettacolo che ripercore la vita di Rosa Balistreri voce della Sicilia dato che con le sue canzoni la resero famosa a livello internazionale la serata verrà inoltre introdotta da due momenti teatrali tratti dal romanzo Birraio di Preston di Camilleri Alessandra Ristuccia mostrerà l'amore per la canzone popolare e per la riscoperta delle radici delle tradizioni sicule che le hanno permesso di ricevere diversi premi con questa notizia è tutto il nostro telegiornale termina qui io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione vi ricordo che ci potete rivedere potete vedere ogni singolo nostro servizio sul nostro sito www.canale74.com grazie e arrivederci a tutti i nostri spettatori